Cara American Airlines, non è mio costume scrivere lettere di reclamo? Sono sopravvissuto alle vostre distanze tra una fila e l'altra, ma il mio problema non è il poco spazio per le gambe, è il funzionamento dei pulsanti sui sedili. Se premo il pulsante per reclinare la poltrona, mi aspetto che la poltrona si reclini o che si muova. La cosa non è accaduta con la poltrona 26C sul volo 41 New York 26.